Una serata che si preannuncia incantevole e intima nella meravigliosa cornice dell'Eramo dell'Annunziata di Fanadriano, in programma questa sera dalle 21.15 organizzata per ricordare a 100 anni dalla nascita Don Giuseppe Zilli. Diversi ospiti lo ricorderanno sia nella sua vita da giovane fanese, sia dal punto di vista professionale, come direttore illuminato che portò Famiglia Cristiana a conoscere una delle stagioni più floride della sua storia, con una forte fidelizzazione dei lettori e con un profondo radicamento nella società. Don Giuseppe Zilli è un nostro concittadino, ci teniamo tantissimo, quest'anno sono 100 anni dalla sua nascita e quello sarà appunto la serata che poi andremo a presentare, il lancio di un premio giornalistico dedicato appunto a lui. Don Giuseppe è stato direttore di Famiglia Cristiana, io dico anche fondatore, perché con Don Giuseppe Zilli Famiglia Cristiana è veramente volata come rivista. Quindi ci teniamo appunto, ripeto, come concittadino e partiamo per quello che sarà poi un evento giornalistico nel 2022. Quindi sarà una serata dedicata esclusivamente a Don Giuseppe Zilli. Ci sarà l'attrice Vanessa Gravina che leggerà brani di Don Giuseppe, verranno proiettate immagini presi dalla RAI, sempre su Don Giuseppe Zilli, foto ed altre cose. Saranno presenti personaggi illustri, tipo il direttore di Famiglia Cristiana Dorrizzolo e anche il condirettore, anche giornalisti di Literatura Nazionale. Un messaggio molto positivo, è il messaggio che si può partire da qualsiasi luogo, anche il più sperduto, e raggiungere traguardi importanti. Si può partire da una realtà familiare umile, infatti lo stesso Don Zilli diceva di essere figlio di un pastore, ma di quelli poveri, distinguendo addirittura tra pastori benestanti e pastori poveri. E giungere tuttavia, come dicevamo, partendo da una situazione umile, anche difficile, attraverso lo studio e l'applicazione, a traguardi importanti.